Se oggi l'Inter vince, prende la Juventus in testa alla classifica. E ragazzi, la Juventus si ferma in casa contro il Sassuolo pareggiando per 2-2. Una Juventus che ad onor del vero mi delude parecchio per quello che è il risultato e quella che è anche la prestazione in campo. In quanto, ok, sullo 0-0 magari vi posso dire che ci sta che la Juventus parta sotto tono un po' come a partita in realtà. Perché poi il Sassuolo di De Zerbi parte con estremo coraggio. Gioca a pallone, gioca il pallone, gioca in avanti, gioca per segnare. Alla fine la Juventus va in vantaggio per 1-0 che si ha quella rasoiata di Bonucci. Uno dice, ok, vabbè, Bonucci 1-0. A questo punto dopo l'1-0 io mi aspetto quantomeno che la Juventus prenda in mano il pallino del gioco. Perché comunque tu hai avuto la fortuna, sei riuscito, diciamo così, a sbloccare il risultato nonostante le difficoltà come una grande squadra fa. Da quel momento devono cambiare le sorti della partita. Mi ha sorpreso il fatto che non cambia nulla. Non è cambiato nulla. Il Sassuolo ha continuato ad attaccare, ha trovato il pareggio. Tra l'altro con errori estremamente giganti. Quelli della Juventus, il 1-1, con il paletto di Bogama sul regalo di Buffon e la papera di Buffon del 2-0. Ragazzi, allora a parte Gianluigi Buffon, che sia stato il peggioro in campo, mi dispiace se avete io l'amore che provi per Gianluigi Buffon. Cioè, sinceramente, ok, se la Juventus non vince la romanista, non è che mi metta a piangere, anzi. Però mi dispiace che l'abbia fatto proprio Buffon, perché so appunto ciò che è stato e un pochino mi dispiace per lui. Cioè, avrei preferito che l'avesse fatto De Ligt. Tra l'altro De Ligt, Poraccio, fa un'altra cappella, perché lì, non lo so, quella lì quadrato, De Ligt, Buffon. Io penso che non dovete dire nient'altro. Quadrato, De Ligt, Buffon. Sono un po' il disegno della Juventus che abbiamo visto questo oggi. Credo che questo sia abbastanza preciso per indicare quanto la Juventus abbia sbagliato e dove la Juventus abbia sbagliato. La Juventus abbia sbagliato in questi nomi qua. Detto questo, piacevolmente sorpreso di vedere quel turati che non conoscevo. Classe 2001, debutta tra i pali, gli viene regalato un sogno e diciamo che le belle parade le fa. Insomma, non è rimasto oscurato. Cioè, da una parte c'era già Luigi Buffon, forse all'ultima stagione della sua carriera. E poi dall'altra c'era Turati, forse alla prima grande stagione della sua carriera. E, ok, magari ci sono queste belle favole, quando, magari un giorno, spero, racconteremo di Turati, che sarà un signor portiere, racconteremo di quando Turati incontrò Buffon, il giorno in cui Buffon fece le paperate e Turati si fece vedere alla grande. Però io quando ho visto Turati ho detto, ma che cazzo fa il Sassuolo? E invece vi dirò, mi ha sorpreso particolarmente. Segna Ciccio Caputo, che tra l'altro voleva titolare al fantacalcio, alla fine la pareggia la Juventus con Cristiano Ronaldo. Guadagna quel calcio di rigore di bala, bravo tra l'altro di bala a guadagnare quel rigore, non era affatto scontato. È molto, molto bravo in tutto quello che fa, alla fine il rigore lo guadagna giustamente. Vi dico, è una Juventus che mi ha deluso enormemente, perché mi aspettavo scendesse in campo con tutt'altro spirito. Gli errori in fase difensiva, a mio modo di vedere, sono molto, molto preoccupanti. E poi sinceramente non ho capito perché Sarri ha fatto il di Francesco, levando i guain e mettendo Ramsey. Allora, il fatto che giochi Ramsey non è che sia così sbagliato, ok? Anzi, è un ottimo giocatore, un gran giocatore, un signor giocatore e ci sta. Il problema è che tu quando stai pareggiando 2-2 in casa contro il Sassuolo, levi un attaccante per mettere un centrocampista, ti copri e cambi modulo. Un centrocampista comunque ispirato, un centrocampista comunque offensivo, ma è comunque un centrocampista. A questo punto, se tu volevi levare i guain, potevi appunto, quando hai messo di bala e levi i guain, metti di bala e levi i guain, non levi Bernardeschi, lasci Bernardeschi in campo e Ramsey lo inserisci magari a partita in corso, ok? Lo inserisci a centrocampo, piuttosto che Emre Can per dire. E questa è una cosa sinceramente che non ho capito, mi è sembrata molto di Francesco a Roma, che si copriva quando stavamo 2-2, oppure addirittura di Francesco si copriva enormemente quando vincivamo e ci faceva a Piergò. Vabbè, fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, mi raccomando iscrivetevi al canale, qualora non l'aveste già fatto, mi piace, vi è piaciuto, se anche se vi ha fatto cagare, ma come sempre spiegatemi il perché. Io vi ringrazio per aver visto questo video, buo scala da lene come sempre, ci vediamo in un prossimo video, ciao raga!